futuro futuro comincia oggi che comincia da noi non possiamo lasciare alle prossime generazioni la responsabilità delle decisioni i giovani devono essere protagoniste in questo nuovo inizio secondo voi quali decisioni vanno prese subito adesso entender che non è un cammino facile e che costruire la confianza può prendere tempo ma vale la pena dobbiamo prendere la decisione di essere parte della soluzione e non del problema educare i giovani preparare i aiutare nel bisogno insegnare il buon tono, cioè il sapere di vivere, trasmettere le valori importanti fare conoscenza del significato dell'immunione sociale, del significato della non-discriminazione facendo parte di questi giovani è giusto sensibilizzare su temi importanti come la difesa dei diritti umani, la cura dell'ambiente e l'armonia fra le varie culture di queste informazioni non ci vediamo ci siamo arrivati prima ci siamo ricordati che il bianco di inizioso il bianco di inizioso il bianco di inizioso ci sono dei nostri amici che ragazzi che è il problema il bianco di inizioso il bianco di non è il bianco di inizioso il bianco di inizioso perché nel senso di un uomo, ci sono un'escritti che ciò si riconosce. Fattendo con gli uomini di un uomo, ciò potrebbe spostare qualche informazione, e può riconoscere gli uomini, che sono in necessità. Il modo che siamo possano aiutare di aiutare non per farlo di essere affidabile. Anche le faccio di fare tutto bene, non per farlo. Se facciamo, più persone saranno più braveri, More people will stand up. Young people and youth should be the protagonists of today, the leaders of change for the future. What we do today will surely affect our future. Thank you.